Arriva dalle forze dell'ordine una chiara risposta agli attentati intimidatori nel nord leccese. Nella notte di Natale se ne registrarono tre fra Cavallino e Castromediano. Dopo la coraggiosa denuncia di un commerciante vessato dalle continue richieste di denaro, i carabinieri della stazione di Cavallino, coadiuvati dai colleghi della compagnia di Lecce, hanno arrestato Manuel Gigante, 38enne già noto alle forze dell'ordine, Antonio Cannoletta, 43enne. Entrambi, stando alla denuncia del commerciante, avrebbero messo in atto una serie di richieste estorsive fra Capodanno e il 7 gennaio. Pretendevano la somma di 1000 euro, ma all'appuntamento si sono presentati anche i carabinieri che hanno stretto le manette ai polsi dei due condotti in carcere. I militari ora stanno indagando per capire se c'è un legame tra gli attentati di Natale e la richiesta estorsiva di Capodanno. Arriva invece ad una svolta la storia di un uomo sessuale pestato a sangue in due riprese, fino a staccargli quasi il lobo. I carabinieri hanno notificato a cinque ragazzi l'avviso di conclusione delle indagini. Tutto si consumò la notte di San Lorenzo a Portomigiano, frazione di Santa Cesaria Terme. L'insulti e le botte sarebbero scaturiti nei confronti del 43enne per il solo fatto di essere omosessuale.